Sara oggi ti porto al mare ti porto in bici e non una sola spiaggia assai sei pronta andiamo prima tampa iniziamo Siamo arrivati a Monte Saraceno, la vista della spiaggia di Martina. Michele, sei un po' stanco? Yeah, nonostante 39 anni, infarmissima. E 39 gradi. Che non è da poco. Ma? Pettacolo, ma che petticello? Petticello, azzurro, verde. Colori del carcano. Mare. Pettacolo. Poi c'è un altro spagna, una birra. Andiamo a recuperare, che pedala pedala. Vai. Andiamo? Andiamo a macchinata. Hai voluto la bicicletta? E ora pedala. E ora ti fai il bagno tu? Va, va. Guarda che acqua, va. Fortunata mia moglie. E questo ti piace affatto. Meritatissima pausa. Birra. Dopo aver fatto 100 chilometri, 50 chilometri, 20 chilometri, ma intensi, ma intensi, una bella birra, una bella birra veritata. Abbiamo bruciato sette calorie. Ci vuole la birra. E vai. Peace out. E con questa si chiude la nostra avventura. Dove? Il nostro posto di pericolo. Questa volta siamo uri in bici. Cin cin. Salute. Guarda qua. 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 Guarda qua.